Mi chiamo Diego Pagani Sono uno dei produttori di Alcenero Produco miele biologico E' fondamentale per Alcenero L'apporto degli apicoltori Anche dal punto di vista del messaggio L'ape, la sentinella ambientale E' il testimone della salubrità Dell'ambiente in cui viviamo Quindi il fatto di concentrarsi su tecniche rispettose Dell'ambiente e degli animali che alleviamo Ci permette di migliorare anche il mondo che viviamo E il cibo che mangiamo tutti i giorni Il miele biologico E' quindi una testimonianza Poi di questo rispetto Sia per gli animali che per l'ambiente E poi per le persone che vanno a consumare il nostro cibo E non è più come in passato Solamente un mezzo per combattere le malattie da raffreddamento Ma abbiamo scoperto che è un fenomenale ingrediente da cucina E non solamente un sorrogato dello zucchero Ma abbiamo scoperto che è un fenomenale